Tempi duri per i manager della sanità erpina al centro di roventi polemiche per la gestione di un momento sicuramente complesso e delicato. Il sindacato degli infermieri dopo i rallentamenti al pronto soccorso di Avellino prova a scuotere Asle e Moscati. Il segretario Nursin da Romina Iannuzzi denuncia siamo ancora a zero rispetto al piano dell'unità di crisi regionale emanato alcuni giorni fa e che ha previsto l'incremento di 58 posti letto covid all'Asl e 103 all'ospedale Moscati. Un colpevole ritardo che mette a rischio il diritto della salute di tutti i cittadini. Gli operatori sanitari, scrive ancora Iannuzzi, non sanno più dove mettere i pazienti e un'area covid con una capacità di sei posti fa fronte ad oltre il doppio dei ricoveri. Il Nursin in assenza di una svolta operativa minaccia ricorsi alla Procura della Repubblica. Lo fa partire invece in queste ore un esposto scrivendo nell'oggetto epidemia colposa il deputato 5 Stelle generoso Maraia che contemporaneamente chiede l'azzeramento dei vertici alla regione Campania dell'Asl Avellino per favorire un commissariamento sulla sanità. Tempo di polemiche denunce.